Per vincere col Palermo devi mettere qualcosa in più, c'è una soddisfazione che dico finalmente davanti ai nostri tifosi qua a Crotone, l'aspettavo da tanto, ce l'aspettavamo da tanto e quindi la soddisfazione è questa, detto questo mi dispiace ma non abbiamo fatto niente e quindi da ora, da domani mattina si comincia a pensare al Padova e a tutto quello che sarà il proseguo del campionato, però c'è da dire che meritavamo già altre volte di portare a casa dei punti per varie situazioni, per demerito e per varie situazioni non siamo riusciti a fare il nostro risultato, questo mi auguro e spero che sia l'inizio, solo l'inizio perché dopo i gol ho visto un coraggio, una consapevolezza nel fare le cose diversa e sono contento per i giocatori perché soprattutto loro ci danno queste soddisfazioni e quindi so quello che hanno provato, continuare a lavorare, continuare a credere in quello che si fa e poi non portare a casa non è semplice, siamo stati un pochino più sporchi rispetto ad altre volte e finalmente ancora per l'ennesima volta dico finalmente abbiamo portato a casa un risultato veramente importante che spero sia davvero l'inizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.